Torniamo in episodi misteriosi di una coppia speciale composta da una professoressa di storia dell'arte Clos e il suo amico speciale felino ovvero il gatto Pablo. Dopo il suo primo romanzo pubblicato nel 2021 titolato La mossa del gatto e ora in libreria la scrittrice Sonia Sacrato con il suo secondo romanzo titolato L'istinto del gatto. Diamo quest'oggi il benvenuto alla nostra autrice qui con noi in collegamento Sonia Sacrato. Sonia ciao ben trovata come stai? Ciao buongiorno a tutti grazie dell'ospitalità. Ma grazie a te. Allora entriamo proprio nel vivo di questo tuo secondo romanzo. Abbiamo in realtà dato qualche spunto per raccontare la nuova avventura fatta di intrighi, di misteri che coinvolge i tuoi protagonisti in questo fortunato sequel. Sicuramente un giallo condito da tanto morismo, ironia, ne stiamo vedendo appunto la copertina a pieno schermo. Ora io ti chiedo senza svelare troppo del plot, che cosa accade a Clos e al suo gatto Pablo questa volta? Allora questa volta stanno lasciando Alba dove hanno vissuto la prima avventura e non avendo voglia di ritornare subito a casa da madre si fermano a casa di Cristina a Torino dove suo malgrado... Scusate, mi sono appoggiata al muletto. Non ti preoccupare. Tutti gli autori hanno sempre grandi librerie alle spalle e invece sono su un muletto. E sono praticamente coinvolti loro malgrado in un'altra indagine diciamo casalinga che parte da un violino vagabondo e si ritrovano ad avere a che fare con dei brutti ceffi. Beh possiamo dire che questa volta la prof è coinvolta, abbiamo capito le parole, in un giallo addirittura molto complesso, un omicidio da risolvere e Pablo quasi fosse un po' un grillo parlante fa da ombra non solo sul caso da districare per aiutare la sua amica Clos ma anche per restituire il suo valido contributo alla vita amorosa della sua padrona. Ma questo potremmo considerarlo come un istinto che va a superare l'intelligenza umana tanto che Pablo per l'appunto metaforicamente ma anche letteralmente ci mette lo zampino tra la pof. E il vicequestore Ferrari, quel poliziotto affascinante che appunto fa parte, ecco altro personale che va ad animare questo secondo romanzo che per l'appunto si occupa di questo caso. Infatti ho voluto, si cerca sempre magari rispetto al primo romanzo come il secondo di alzare un po' l'asticella e quindi mi sono voluta un po' complicare la vita. Ho messo stavolta due indagini in parallelo molto vicine, non a distanza di 60 anni come nel primo caso, però è stata una soddisfazione far entrare Luca Ferraris, fa parte del team perché anche immaginarlo comunque fa bene all'ottimismo, ai pensieri positivi. Ognuno dà l'immagine che vuole alla figura e diciamo che il mio Ferrari ha una bella figura. Ha una bella figura ecco, che sarà molto apprezzata dalle torri e dalle lettrici soprattutto, sappiamo però che c'è anche qualcosa di molto autobiografico per questo romanzo perché la tua passione per i gatti risale ad una personale condivenza con una gatta persiana dal fare molto aristocratico. Quindi in questo caso però l'ombra proprio del mistero ma anche dell'intuito sono peculiarità che vanno a contraddistinguere in senso generale i filini e che hanno anche animato, hanno anche ispirato questo romanzo per appunto impreziosisto dal mistero del thriller. Guarda, Melli che appunto è l'alter ego di Pablo, o meglio Pablo è l'alter ego di Melli, è stata la persona che è stata con me 19 anni e lei aveva proprio questo atteggiamento un po' snob e sofisticato, dava anche lei le sue zampate al momento giusto ed è stato bello farla rivivere. La cosa bella della narrazione è che puoi far rivivere chi vuoi e anche uccidere chi vuoi a seconda delle necessità. Ecco, c'è l'alte ego vita morta, la doppia faccia di un'unica medaglia. Sicuramente ecco un romanzo molto interessante da leggere, un triso di mistero, di fascino, di eleganza, di intuito, ma c'è anche la componente amorosa che per l'appunto ha tutto il suo perché, tutto il suo fascino. E ricordiamo anche a pubblico, Sonia, che tu sarai a Napoli, proprio domenica 16 aprile alle ore 10.30 per la rassegna Poete per presentare per l'appunto questo nuovo romanzo, L'istituto del gatto, con Claudio Finelli e Roberta D'Agostino. Le letture invece saranno affidate all'attore Gianni Salustro che salutiamo. Sicuramente l'incontro con il pubblico diventa sempre molto stimolante, Sonia, diventa sempre un'esperienza formativa tra domande e curiosità. Hai già pensato a quali potrebbero essere le curiosità dei lettori? Quelle che ti verranno chieste? Perché mi piace sentire da parte di ogni lettore diverso il suo punto di vista, perché a volte si rendono conto di cose che nemmeno io recepisco su quello che ho scritto. E quindi mi danno delle sfumature nuove ed è meglio accoglierle esattamente così come sono senza aver già pensato prima, averci pensato già troppo. Cosa ti aspetti però da questo nuovo volume? Perché il primo romanzo, L'amostra del gatto, ha conquistato critica, pubblico, tanti lettori si sono legati a questa storia. Ora da autrice ma a contempo anche creatrice di storie, come è stato per te approcciarsi a questo secondo romanzo? È stato impegnativo nel senso a livello soprattutto emotivo, non soltanto perché la parte gialla è diventata un po' più costruita, un pochettino più elaborata. Ma poi io vivo non tanto con la voglia di risplendere diciamo così, ma con la paura di deludere. Per cui c'è il carico di ansia di dire Madonna spero di essere all'altezza della prima edizione e adesso ho da poco consegnato anche il numero 3. E quindi sto aspettando risposte della casa editrice, quindi l'ansia è tripla. E infatti è una bellissima emozione. Esatto, era quello che volevo chiederti perché comunque i tuoi gialli hanno storie che hanno sì una loro conclusione e quindi pensavo ad una trilogia. Quindi dobbiamo aspettarci altre storie intrese di mistero e che vengono protagonisti di Chloé, il gatto Pablo. Spero di sì. Presto? Diciamo che spero per l'autunno ma non ho ancora conferme, però c'è il treno e il forno. La trilogia c'è. Tra l'altro parliamo di scrittura, romanzo, stiamo parlando della trilogia, protagonisti a Prof Chloé, il suo amato gatto Pablo. Ma comunque il minimo comune denominatore di queste storie è che alla base c'è tanto umorismo, c'è ironia, c'è mistero. Che tra l'altro, Sonia, hanno i requisiti per una trasposizione filmica. Ora, oltre la trilogia, ce n'è dato risposta affermativa. Possiamo, secondo te, vedere Pablo prossimamente anche in una fiction? Potrebbe accadere? Io lo spero. Se vogliamo scrivere una petizione al mio agente perché si muove in quel modo lì, io sono favorevole, do l'indirizzo mail, scriviamo in blocco, scriviamo direttamente alle case di produzione anche. Quindi, insomma, la speranza sempre c'è. Poi ci sono tantissimi romanzi anche più validi e quindi restiamo in attesa di chi ci accorge. Ma in realtà tu ci avevi già pensato? Beh, chi è che non ci pensa? Per dire, io avevo dato il viso di Luca Ferraris a Daniele Diotti perché è un volo basso, l'avevo presa bassa e quindi per dirne uno. Ma Fabrizio, ad esempio, che era presente molto di più nel numero uno, era Andy Garzia. Poi mi rendo conto che diventa impegnativo, però almeno con la fantasia si viaggia. Ascolta, come dovranno i lettori approcciarsi a questo secondo volume? Qual è lo spirito ideale? Lo spirito ideale è di aver voglia di sorridere, di conoscere un'altra parte di storia, perché comunque c'è sempre un argomento che fa parte della storia, della cronaca italiana. In questo caso nel numero due c'è l'incendio del Cinema Statuto di Torino del 1983, che magari forse è poco conosciuto a Napoli, ma è quello che ha permesso di modificare tutta quella che è la legge della sicurezza negli ambienti pubblici. E quindi è un argomento che secondo me andava ricordato. La voglia di consigliere, ma anche di passare delle ore leggere, nel senso che ne abbiamo bisogno e quindi un po' di leggerezza ogni tanto male. Esatto, intanto ricordiamo l'appuntamento ai nostri lettori perché domenica 16 aprile 10.30 ti ritroveremo in occasione della resegna Poetè per presentare appunto l'istinto del gatto con Claudio Finelli, Roberta D'Agostino, le letture affidate a Gianni Sallustro, che salutiamo. Ecco la copertina a pieno schermo di questo secondo romanzo pubblicato appunto da Sonia Sacrato. Grazie di essere stata qui con noi Sonia. Grazie a voi, un saluto a tutti e vi aspetto domenica. Sì, noi ci vediamo anche per rappresentare magari il terzo volume, sempre qui a Mattina Live. Un bacio, a presto, a prestissimo. Noi ci ritroveremo fra pochissimo, pubblicità restate con noi.